Ciao a tutti, 5 vantaggi da conoscere assolutamente sullo sport per riprendersi da una rottura. In questo video voglio spiegare quali sono 5 vantaggi da conoscere assolutamente sullo sport per riprenderti da una rottura sentimentale affettiva, ovviamente, da una rottura, non da una rottura di una gamba, di un arto, no, da una rottura sentimentale affettiva. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni e seminari del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, il tema è proprio quello, 5 vantaggi da conoscere assolutamente sullo sport per riprenderti da una rottura sentimentale affettiva. Allora, quali sono i benefici dello sport dopo una rottura sentimentale affettiva? Perché lo sport aiuta a ricostruirti? Come ti può aiutare a stare meglio? Ecco, lo sport offre diversi vantaggi, porterà diversi benefici e quindi è qualcosa che devi utilizzare in questo periodo, diciamo, che è comunque difficile e in cui è necessario prendersi cura di se stesso, ricostruire se stessi, ricostruire il suo ego fondamentalmente. Quindi tieni conto che veramente questi sono benefici molto importanti. Allora, lo sport a cosa serve da questo punto di vista? Beh, intanto ti permette di liberare la mente, ti permette di rimettere a fuoco il momento presente. Quando pratichi sport, lo sforzo e la concentrazione necessarie, diciamo, lo sforzo per effettuare un tipo di sport, costringe la tua mente a concentrarsi sull'attività fisica e ferma la ruminazione mentale, ferma l'accanimento, ferma l'accanirsi su pensieri che sono pensieri fondamentalmente inutili. E questo è fondamentale, perché dopo una rottura la cosa peggiore che puoi fare è quella di accanirti. L'accanimento è veramente distruttivo, l'accanimento rovina completamente la tua vita. Questo devi tenerlo presente. E purtroppo è un fatto fondamentale. Se tu ti accanisci, non otterrai veramente nessun beneficio, non otterrai veramente nessun vantaggio e tutto sarà... peggiorerà. La tua situazione tenderà a peggiorare. Lo sport, inoltre, è un antidepressivo naturale. Aiuta nella produzione di ormoni, del piacere e del benessere, l'ossitocina, la dopamina, che naturalmente tenderanno a diminuire un pochino quando vivi una situazione, diciamo, dolorosa dovuta alla rottura. Quindi attraverso la ripresa dello sport o fare sport attraverso l'attività fisica ti sentirai bene e migliorerai sempre di più anche il tuo umore. Questo è fondamentale, ricordarsi che lo sport è comunque davvero un antidepressivo naturale ed è veramente molto utile per raggiungere dei risultati. Lo sport aiuta anche a scaricare le emozioni negative. Attraverso lo sport puoi scaricare la rabbia, la tristezza, tutte le altre emozioni che ti bruciano energia. Vengono eliminate, diciamo, rilasciate attraverso lo sforzo fisico. Inoltre attraverso lo sport acquisirai maggior fiducia in te stessa, supererai te stessa, uscirai fuori dalla tua zona di comfort e scoprirai la tua forza, scoprirai nuove emozioni e attraverso le energie fisiche che andrai a utilizzare imparerai a costruire più fiducia in te stesso. Sarai orgogliosa di te stessa, di te stesso. Riuscirai a superare e ad affrontare quelli che spesso sono dei limiti che noi andiamo di fatto a costruirci. Quindi questo è veramente importante, rendersi conto di questo. È fondamentale questo. Poi ti prenderai cura di te stessa e del tuo corpo. Vedrai il tuo corpo migliorare. Questa riconnessione. E con il proprio corpo e persino la trasformazione fisica ti daranno una sensazione di benessere. E svilupperanno, ti permetteranno di aumentare la tua autostima. Sentirsi bene col proprio corpo aiuta a stare bene con la mente. D'altra parte i detti popolari sono interessanti. Mense sana in corpo è sano. Quindi ascolta te stesso, te stessa, abbi cura di te stesso. Ma attraverso lo sport potrai anche sfidarti. Potrai anche migliorare. Potrai anche vedere che ci sono delle cose che tu puoi fare e ti consentiranno veramente di migliorare. La cosa importante è scegliere lo sport che ti piace. Uno sport, puoi provare anche uno sport nuovo. Se già fai uno sport puoi dedicarti. Può essere anche semplicemente il fitness. Qualcosa che però ti dia benessere. Qualcosa che ti faccia veramente stare bene. E in te ci sono delle capacità. Non importa l'età che hai. Ovviamente fai tutto in base all'età. Non è che uno, come dire, se io voglio vincere i 100 metri piani e andare a battere il campione di 100 metri piani che non so più chi sia. Una volta ero sei in volta, adesso credo che sei ritirato pure lui. Beh, questo non è possibile. Però diciamo che ognuno può migliorarsi, può migliorare se stesso. Ed è veramente fondamentale. Quindi la ricostruzione implica l'azione. È il rimuginare e riflettere troppo quando si viene lasciato un qualcosa di estremamente negativo. L'azione inibisce la riflessione. Questo è un punto molto importante. Quindi pratica uno sport e vedrai che otterrai dei grandi risultati molto, molto importanti. In più, ovviamente, ci sono tutti i benefici oggettivi dello sport. Perché fare sport migliora, ad esempio, tutti i vari parametri. Questo è risaputo, no? Che fare sport fa bene. Ovviamente non essere un agonismo. Agonismo deriva da agonia. Non è che devi fare lo sport di distruzione di massa, no? Ognuno ha le sue caratteristiche in funzione dell'età, in funzione della salute. Insomma, facendo tutti i controlli necessari. Questo è importante, fare i controlli necessari. Ma anche un'attività che può essere ludica, no? Perché lo sport, tutto sommato, è anche gioco. Ci sono anche degli sport non sport, come ad esempio delle pratiche come le arti marziali, che lavora molto anche la mente, lo yoga. Sono tutte attività che poi, unite alla meditazione, il top è unire anche lo sport alla meditazione. Questo è veramente il non plus ultra per recuperare una relazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terra Mascot. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni. Seminario dal vivo. Abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Bene, ciao a tutti.